Marcia spedita all'organizzazione di Montelago Celtiche Festival e quest'anno per la prima volta con un'edizione di ben 4 giorni, dal 31 luglio al 3 agosto, a Taverne di Serravalle di Chienti. Ad essere svelati sono i nomi dei protagonisti della tenda Tolkien, lo spazio dedicato ai libri e alle conferenze. Un evento nell'evento quindi, che ogni anno richiama centinaia di partecipanti appassionati all'universo fantasy e agli argomenti affini a Montelago, come il mito, la musica, la filosofia, l'illustrazione, l'ecologia e le sottoculture. Un'ora d'appuntamento, da giovedì a sabato dalla mattina alla sera, ben 30 ospiti a confrontarsi sul tema di quest'anno, gli incroci. La tenda Tolkien e ormai realtà solida del festival dalle ore 21 e 30 resta aperta con una sorpresa, il Folky Horror Picture Show, il cinema di Montelago con tre giorni di paura proiettati non stop per accompagnare gli spettatori verso le tenebre. Montelago Celtic Festival è un evento firmato, la Catasta, è organizzato con Regione Marche, Provincia di Macerata, Comune di Serravalle di Chienti, Cosmari, Contram, Università di Camerino, Protezione Civile e Croce Rossa. Programma dettagliato e biglietti al sito montelagocelticfestival.it Grazie. Grazie.